www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport Dottor Motta, nuovo curatore fallimentare della pratica calcio Lecco 1912 prima esperienza allo stadio, domanda a Brucio Pielo Salvezza lei ha detto che è un obiettivo perseguibile Sì certo, col contributo di tutti penso che si possa fare del resto siamo solo a 4 punti, perché rinunciarvi? Deve essere chiaro comunque che già arrivare a fine anno anche perdendo tutte le partite e salvando il titolo sportivo sarebbe un grande successo Si affiderà alla consulenza, quantomeno all'aiuto di un direttore sportivo o di una carica similare per riuscire a centrare o provare a centrare questo obiettivo che sarebbe di fondamentale importanza per non disperdere l'entusiasmo di questa piazza? Credo che sia opportuno, però prima del presidente sportivo deve venire il curatore pubblico ufficiale e quindi dovremmo fare un equilibrio tra costi e ricavi perché settimanalmente o quantomeno mensilmente le entrate superino le uscite compatibilmente con questo obiettivo cercheremo di fare meglio anche dal punto di vista sportivo ed eventualmente anche con un direttore sportivo È in dubbio che la squadra abbia bisogno di eventuali rinforzi di necessari rinforzi per poter provare a percorrere questa strada lei ha lanciato l'iniziativa denominata Adotta un giocatore Certo, Adotta un giocatore per noi sarebbe la possibilità di non avere limiti in campagna acquisti perché adottare vuol dire sostenere direttamente i costi a carico di imprenditori che dovessero sponsorizzare la società senza uscite per il calciolecco questo ci consente di aggiungere dei giocatori di qualità che potranno essere scelti solo tra gli svincolati perché il mercato purtroppo chiude il prossimo 15 dicembre ma tanti giocatori svincolati di qualità ci sono e quindi ci potranno senz'altro dare una mano per cui tutti gli imprenditori che lo vogliono fare devono assolutamente partecipare vi garantisco che chi parteciperà sarà pubblicizzato quindi sapremo chi ha voluto dare una mano a Lecco e anche per differenza quindi chi non l'ha data adesso non è più il momento di parlare bisogna essere concreti Ha chiesto un forte aiuto ai tifosi? Certo, perché siccome per una parte devo essere anche un tifoso perché altrimenti tutte le difficoltà mi farebbero desistere vorrei che domenica ci fosse una risposta di tifosi tale da convincermi che ci devo provare sarebbe più facile per me rinunciare al campionato e chiudere un'attività ma non voglio farlo perché è 104 anni di storia e non si possono dimenticare Infine in programma o all'intenzione di dialogare con il sindaco Virginio Brive e le altre cariche di Palazzo Vare quindi dall'amministrazione comunale? Penso sia un dovere un dovere incontrarci per vedere perché comunque noi siamo alla fine ospiti in casa comunale lo stadio poi è una casa comunale sicuramente dobbiamo essere grati al Comune per la disponibilità che ci ha dato l'utilizzo della stessa ma per vedere poi insieme se ci sono anche delle possibilità per portare avanti questo grande marchio del Lecchese che è il Calcio Lecco che addirittura ha militato in Serie A e che quindi penso sia anche interesse del Comune di vedere proseguire con soddisfazione di tutti Grazie e buon lavoro Dottor Watt Anche a voi, grazie mille www.lecchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport